La volta di questa camera, il salotto rosa, è in cassoni linei finemente decorati. La regina amava intrattenersi con le amiche in questo salotto. Infatti era la sala soggiorno di Maria Cristina. Questa stanza è comunicante con la stanza da letto della sovrana. Le pareti sono rivestite di broccato rosa, da cui nome di questo bell'ambiente. Al centro del pavimento in parquet fa bella mostra lo stema di famiglia dei Villermosa. Alle pareti pregevoli dipinti raffigurano molti personaggi di Casa Savoia, fra cui il re Carlo Felice. Sui mobili fanno bella mostra molti ritratti di Savoia, con dedica ai marchesi di Villermosa. Questa porta ci permette di entrare nella camera da letto della regina. Grazie. 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 Grazie.